La lente d'ingrandimento sul mondo della pulizia fa il fuoco, questa volta sul mondo dell'artigianato, insieme a chi fa parte della direzione nazionale di CNA. Aldo Avosani, che cosa vi aspettate dal forum? Credo che il forum debba essere sicuramente un punto di svolta importantissimo e che faccia guardare gli attori di questo mercato tutti insieme tra di loro. Le aspettative sono tante, anche perché ci sono le istituzioni che spesso sono lontane, che cosa vi aspettate da loro? Io credo che già l'istituzione del forum sia un esplicito invito a sedersi e a discutere di cose che ormai sono non più procrastinabili, quindi non commento, attendo i fatti. Il forum è l'occasione per giocare a carte scoperte, per mettere tutto sul tavolo, dal punto di vista degli artigiani quali sono le criticità? L'artigianato di per sé, nel nostro tessuto imprenditoriale, ha sempre convissuto con delle criticità, quindi elencarle qui sarebbe troppo lungo e quindi non mi soffermo più di tanto. È l'occasione per cominciare a togliere queste criticità. Quali sono però i punti di forza che ci sono? Sono sempre tenuti un pochino dalla nostra categoria custoditi, gelosamente, perché sono quelli che ci permettono di andare e andare avanti. Sicuramente credo la grande predisposizione al dialogo con tutti gli attori di qualsiasi panorama economico. Perché sarà importante esserci? Beh, è importante esserci soprattutto perché dobbiamo riaffermare il fatto che l'economia di questo Paese ha necessità di essere spinta da tutti gli attori, da tutte le persone di buona volontà e soprattutto anche di dare una direzione a questa spinta, a questa rinascita. Dal suo punto di vista qual è la direzione più giusta in un momento che è un po' difficile? La direzione più giusta l'ho già accennata prima, l'ho detta, la vorrei ribadire con una certa forza. È inevitabile che se non ci si siede e non si fa veramente sinergia rispetto a quelli che sono gli obiettivi che ci si porrà e che usciranno dal forum, credo che non ce la faremo. È chiaro che i campanilismi sono dietro l'angolo, però bisogna una volta tanto farne a meno.